Innanzitutto gli diamo il benvenuto a 696 TV, Nicolas seconda gara consecutiva, sei arrivato subito in campo perché l'Avellino ha bisogno di tutti, ha bisogno di te, ti ha definito Capuano un top player per la categoria. Oggi è iniziato mezza alla sinistra, poi mezza punta, però il commento iniziale lo facciamo su questo pareggio col Picerno, alla fine poteva essere beffa, grandissimo Dini a togliere le castagne dal fuoco. Sì, alla fine poteva essere beffa, però io mi ricordo un grandissimo primo tempo fatto da parte nostra, abbiamo sbagliato qualche gol, purtroppo abbiamo preso gol alla prima loro occasione, è unica, poi a parte l'ultima. Mi dispiace tanto, speravo in un esordio qui ad Avellino con una bella vittoria in casa, però dobbiamo stare tranquilli e incazzati per andare a Bisceglie e cercare di vincere la partita. Ti mancava la campagna dopo la tua esperienza alla Juve Stabia e allora ti posso e ti devo chiedere anche questi due primi giorni in bianco verde, come sono stati, che ambiente hai trovato, il mister ti ha voluto in maniera fortissima, lo ripetiamo, e dunque l'impatto sia con il mister sia con i compagni di squadra. Beh, con il mister è stato un buon impatto, è un mister veramente molto preparato, prepara le partite benissimo, penso che si sia visto anche oggi, anche a Catania, e con i compagni mi sto trovando benissimo, un gruppo bello compatto, bravissimi ragazzi, e nulla, dobbiamo cercare di star compatti come lo siamo negli spogliatoi anche in campo e cercare di vincere le più partite possibili. Bene, venivi da un periodo piuttosto prolungato di inattività, però ovviamente subito a disposizione, come stai e soprattutto che lavoro ci vorrà per metterti al passo, però poi d'altronde è giocare che aiuto a trovare la condizione. No, no, io più gioco e più sto meglio, sono venuto qui a dare una mano ai ragazzi, è vero, sono da tanto purtroppo che sono sei mesi che non ho giocato, ho avuto un problemino, però ora i problemi li mettiamo alle spalle, pensiamo solo all'avellino calcio, e già domenica vincerà Bisceglie. Ok, recupero come sempre l'auricolare, eccolo qui, si è impigliato ma è venuto fuori, prego Nicolas, lo dà a Gellorecchio e per te in studio c'è Angelo Giuliani. Eccoci qua, siamo pronti. Al contrario? Va bene, sì. Buonasera Nicolas, allora venivi da due anni importanti a Pisa con i playoff vinti, quali sono state le motivazioni, le ambizioni per accettare questa nuova sfida ad Avellino? Beh, innanzitutto la piazza, è una piazza che mi ricorda molto Pisa perché il tifo mi ha fatto veramente un bellissimo effetto, soprattutto prima della partita quando siamo andati sotto la curva si sono fatti sentire. E poi anche il mister mi ha cercato tanto, mi hanno parlato molto bene di lui, infatti si è visto come prepara le partite e penso di aver fatto la scelta giusta. Senti, tra l'altro nella tua partita d'esordio sei andato vicino al gol per bagnarla con una rete già all'esordio, sfortunata quella conclusione lì al Massimino su assist di Mikoski, hai sfiorato davvero un gran bel gol, no? Sì, sì, peccato perché magari quel gol ci poteva far portare magari almeno un punto o qualcosina da Catania, però a me non mi piace parlare di quello che è stato, mi sto già concentrando per quel che sarà, quindi ho già la testa per Bisceglie. Un'ultima da parte mia, secondo te alla fine i play-out si faranno o no? Tu adesso mi dirai bisogna rimanere con la tensione, la concentrazione alta, non mollare fino alla fine, però ecco realisticamente secondo te squadre come il Rieti per esempio possono rientrare in corsa? Ma secondo me la squadra, l'Avellino è una buona squadra, dobbiamo star compatti, cercare di seguire il mister e poi non ci voglio neanche pensare play-out. Va bene, grazie, a te Marco! Grazie mille Sì, Nicolás, per la chiusura, accordo di sei mesi perché l'Avellino sta facendo questa politica, ma c'è una parola magari per prolungare, per restare ancora qui in bianco verde, un progetto a lungo termine? Purtroppo non lo so, queste sono cose che se ne occupa il mio procuratore, quindi innanzitutto voglio pensare adesso a far bene questi sei mesi, poi quel che verrà si vedrà.